femminicidio perché c'è un femminicidio dopo l'altro commento perché il femminicidio è una imponente forma coscienza prima è un'imponente forma pensiero poi energizzata da tutti quegli uomini che odiano le loro donne la forma pensiero contagia le menti di molti di questi uomini di bassa evoluzione che obbedendo alla legge materializzano nel piano fisico il loro karma e quello delle loro vittime